Ciao ragazzi, oggi parliamo di Roma con la Baccellona. Avere verso persi che metta, avere verso persi che metta. Quando ci ricordo, ma quando ci ricordo, porco Dio, quando ci ricordo. Allora, quando ci ricordo, ragazzi, che abbiamo vinto quella finale, dico, di quel Ascension League, ragazzi, oggi è poi la vinciamo, ragazzi, ho lasciato Roma di Asun andare a vedere, perché io, e mi hanno citato, perché non ho mai compato il video andare a vedere, perché io, regà, non ho mai, non ho mai compato il video così tanto che fa. Regà, porca puttana, che particola che abbiamo fatto. Allora, ragazzi, arriveranno, arriveranno anche, anche, un'altra, 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 un'altra reaction sul mio canale. Se non mi danno un'altra ricaica sul canale, e... c'era un po' di mia madre su un canale che, diciamo, è paulaccia, perché... che facciamo l'idea della storia, però, e... che, ragazzi, io sono piaciuto perché è un canale che è un canale che ha un'idea quella cazzo di parica, porco dio, regà, perché non si prega questa cosa, non si prego, non si prego, guarda, che ha un'idea questa, quella barica, non si prego. non si prego, non si prego, non si prego. Io, io regà, io sono piaciuto di quella... di quella biaudia che abbiamo fatto. io regà, sono piaciuto di quella cosa che... sono piaciuto di anche di... 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 poi ti piacono giornatella di... eh, ho detto, a fare un video in cazzatura, poi ti piacono giornatella quando andavo in camera, anche in camera, anche in camera, che piacono... due cose poi... così, no? e... ah, ma io sono felice, ragazzi, che io ho passato il video, e... lasciando... lasciando i commenti, lasciando il video, passare su Facebook, passare su Instagram, che io ho passato il video, bella! e... 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 sembra che... sembra che... sembra che... sembra che a farvi il fondo, e... a farvi lo pure e acquola, e... 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 sembra che... fu anche anche su qua aereo. Ciao! Grazie.